9 ottobre 2017 Gianni Colacione per LibriTV al Quadraro davanti al monumento che ricorda le vittime del rastrellamento del Quadraro ad opera delle truppe naziste durante le occupazioni di Roma. Parliamo di questo avvenimento, come sapete sul LibriTV ne abbiamo parlato e ne abbiamo divulgato anche con altri video la conoscenza, soprattutto grazie al lavoro che fa per la NRP e per Luigi Amen, un lavoro di ricostruzione storica. Ne parliamo oggi perché dopo la morte di Sisto 40, che è uno dei sopravvissuti a questo rastrellamento, sono apparse sui giornali alcune notizie non corrette. Chiediamo per Luigi Amen perché e qual è la versione più attinente alla realtà storica. Dottor Amen, siamo qui davanti al monumento alle vittime del rastrellamento del Quadraro. È uscita la notizia dopo la morte di Sisto 40 che appunto era questo l'ultimo dei sopravvissuti. Ecco, lei che ha fatto questa ricostruzione storica sul LibriTV ne abbiamo testimonianze, cosa sa dirci al riguardo? Sì, dunque effettivamente su tutti i quotidiani sia online che su articoli sulla stampa è uscita questa notizia che Sisto 40 che è deceduto il 5 ottobre di quest'anno in realtà fosse l'ultimo dei sopravvissuti del Quadraro. Ora, questa notizia oggettivamente è falsa. Falsa perché? Perché io sto seguendo da tanto tempo, ormai sono circa tre anni, un'importante ricerca scientifica che mi è stata affidata dall'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia, internamente guerra di liberazione, che è un ente morale vigilato dalla difesa e istituito nel 1949 sul rastrellamento del Quadraro. Noi quindi abbiamo fatto delle ampie ricerche anagrafiche a partire dalla famosa lista di Don Gioacchino Rei e da quelle è emerso che attualmente ancora oggi sono vive circa dieci rastrellati del Quadraro. Potrebbe essere qualcuno di più perché alcuni si sono trasferiti e stiamo vedendo di rintracciarli nel caso fossero in altri luoghi rintracciabili, cioè nel senso che l'allangrafe di Roma ancora non è arrivata la notizia che sono morti. Poi il discorso generale di tutta questa vicenda sul rastrellamento del Quadraro è sempre stato lasciato un po' troppo per sentito dire ed è la cosa che a me mi ha più sconvolto, devo dire la verità, quando sono iniziato a lavorare su questa vicenda perché nessuno ha mai approfondito veramente a parte Walter De Cesaris che ha fatto un ottimo testo sulla borgata ribelle, ma nessuno è mai veramente entrato nel novero di controllare effettivamente al di là di chi fossero queste persone quale fosse il loro intento sociologico di vita, cioè nel senso che questa situazione del rastrellamento del Quadraro è stata lasciata, ripeto, per sentito dire. Questa situazione quindi che cosa comporta? Comporta che nel tempo si sono accumulate molte inesattezze, soprattutto dette in buona fede, che hanno fatto sì che questa vicenda storica è trattata non in maniera scientifica e non in maniera concreta, cioè nel senso delle notizie veritiere. Voglio fare un altro esempio così siamo un po' più chiari. Nel 1994, vi do prima la notizia e poi vi spiego la motivazione, si dice che di questi rastrellati nel Quadraro ne sono morti circa la metà in prigionia o comunque in conseguenza diretta del rastrellamento. Questa notizia è falsa, è falsa non perché sia stata data volutamente in modo falso, ma perché è stata riportata in modo scorretto da chi l'ha generata e vi spiego di che cosa si tratta. La signora Italia Poeta che abitava via Cibele fece un'intervista con Cesare De Simone che sul suo libro La città prigioniera riportò a questa intervista. La signora nel colloquiare con Cesare De Simone in questa benedetta intervista disse testualmente, me lo sono scritto, che dei 736 che sono stati portati via ne sono morti almeno 300, tutti quelli più anziani. Ora, questa informazione è stata presa come notizia, questa notizia è falsa perché noi abbiamo avuto modo di constatare che ne sono deceduti in conseguenza diretta della deportazione soltanto 27. Tutti gli altri, effettivamente, molti di loro sono morti poi negli anni, circa entro 10-15 anni, ne sono morti un altro bel numero perché effettivamente erano anziani e perché chiaramente essendo stati presi sui 55 anni hanno risentito di questa deportazione. Ma dire che in quel modo, cioè dare la notizia in questo modo, cioè ne sono morti la metà, significa falsare la verità storica. Il problema è che tutta questa vicenda del rastrellamento del quadraro è stata trattata in questo modo, cioè prese informazioni dai testimoni, in perfetta buona fede, che poi hanno spostato completamente l'ottica della verità storica. La verità storica noi adesso possiamo affermare che cominciamo a tirarla fuori realmente per quello che è stato perché abbiamo fatto questa gigantesca ricerca documentale negli archivi di fondi inesplorati dati dalle istituzioni che fino a oggi erano rimasti oltre che chiusi, ma erano anche archivi che nessuno pensava di poter andare a controllare. Questo perché noi, essendo questa associazione storica che fa le cose in maniera corretta, nel senso scientifico, almeno per quello che è possibile o dove è possibile arrivare, siamo al punto di poter fare delle affermazioni comprovabili, usiamo questo termine, comprovabili documentalmente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.